banniamo banca no no che banca bannate i grattacieli canal chi che asciuga il canal allora a me piace canal finestra chiusa arrivo su ma ma no beh vabbè raga come tutte le battite vado al centro bello dov'è raga è sotto ma tu con la tua bombetta ce la fai eh dici? si tira da qua vai si tira un'altra no non li avrà più vai ok ok c4 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 c6 c4 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 c5 c4 c8 c4 c5 Ma sei rialzata, ma perché? Per una volta che non finisco uno, ma sul serio? Eh, ma raga, ma le cam default, porco di... Ma veramente? Vediamo che si beccherà la mia... Capo, ma anche di Squared La tavola che giocava Prende letteralmente per i fondamenti degli avversari Vabbè, sì Cosa? Twitch 10 HP Ma non è vero, raga, ma ho piccato mezzo secondo Appena l'ho visto Ma Pesh, teoricamente non possono abbracciare Infatti, Pesh, fai il giro da verde Andai lì Entrato, entrato No, raga, il pompa non fa un cazzo No, ma c'hai la pistola, Dio Cacli One Bomb Eh, ma c'hai quel pompa a un metro, esattamente a un metro Da qui, eh Sta sempre corrido di usare la comandi Bravo, apri lì il varco Ok, raga, eh Ho fatto una prova Scusate Ma vai Ma guarda che bella Eh, bella Eh, ma ti riconosce completamente la mappa A 360 gradi Bello che aveva letto il nuovo pacco C'è l'autolig Non piccare, Ricky No, no, stavo guardando il culo Pesh, ma che ci fai qua? Turismo No, è entrato il lesion È sotto scala, è sotto dove ho bagno È entrato il site, mi sa C'è a sinistra il lesion, mi sa Sì, è a sinistra C'è anche il lesion, c'è anche il lesion Oh, a destra, a destra In distanza immersioni, raga, eh C'è Lion Uno è sopra, gamba Sta facendo la botola Vedi il laser, gamba? Ha loccato? Ho visto? Il vigil non si sta più governando adesso da solo Ok, è tornato a piccare il vigil No, l'ho smirato È in sight, mi sa Sì, è dentro A Sotto A Mamma mia Mamma mia 10 euro in mano Mamma mia, l'uomo che ha detto no Alla finanza e sì al colesterolo Ragazzi, gambo di Squared, mio padre Che coglione Ricorda che quando vengo su Oltre il chilo di mamma che mi hai chiesto di portare Mi porterò anche su questo Con due GG toxic Ma come è GG toxic? Ma perché? Ho segnalato per chat Guardo subito Report Abusive chat Io sono tipo un professore qua su sto gioco Di che appena uno fa qualcosa di sbagliato Sicuro mi si è incontrato contro e mi si è segnalato perché Qua se no non si spiega Oltre il chilo di